Ti svelerò 6 dettagli per sapere sempre con certezza se hai catturato l'attenzione di qualcuno. Conoscendoli diventerai pressoché infallibile. Sono Maddalena e tu sei su Adamas Carisma per Tutti, il canale giusto per imparare ad ottenere tutto ciò che vuoi. Iscriviti subito al canale e clicca sulla campanellina per non perdere i video che pubblicherò ogni lunedì e venerdì alle 13. E ricordati di lasciarmi un like, cos'hanno in comune Sherlock Holmes, Poirot, Patrick Jane, il dottor Reed, Lightman e il dottor House. Personaggi molto diversi anche se tutti straordinari a modo loro, ma che sono accumulati dalla capacità di raccogliere un'infinità di indizi grazie all'osservazione e decifrare alla perfezione le persone. Purtroppo non posso assicurarti che diventerai esattamente come loro, ma consolati con il fatto che non esistono. Però posso aiutarti ad apprendere dei metodi decisamente validi per capire chi ti circonda e quindi interagire in modo corretto. Prima di diventare un esperto di linguaggio del corpo, di comunicazione, un mentalista, nonché la persona più carismatica dell'universo, parti dalle basi e cerca almeno di capire se è suscitato interesse, perché così saprai agire di conseguenza e adattare la tua strategia. Questo ti sarà indispensabile sia nella vita privata che in quella lavorativa e ti eviterà dei motivanti insuccessi. Ma notare l'attenzione o disattenzione altrui ti sarà molto utile anche per intrufolarti. E questo magari è un punto che stai sottovalutando. Quando vedi conversare altre persone potresti notare dei forti cali di attenzione. E quelli potrebbero essere momenti per inserirti nella conversazione ed essere accolto molto favorevolmente in vari scenari. Scenario 1 Se quella persona è tua amica probabilmente ti sarà grata perché la starai salvando da una conversazione noiosissima. Scenario 2 In ambito lavorativo potrebbe essere il momento giusto per metterti in mostra in luce favorevole e proporre così magari dalle tue idee. Scenario 3 Potrebbe essere il momento ideale per farti avanti con una persona che ti piace ed è annoiata dal suo interlocutore. Quindi seguimi sino alla fine e da oggi stesso impara ad osservare con attenzione. Innanzitutto focalizzati sulla direzione dello sguardo. Nota se l'altro mantiene il contatto visivo o se lo sguardo vaga altrove. Ma anche se lo sguardo è esageratamente fisso. Perché in quel caso probabilmente si sta sforzando ma pensa tutt'altro. Per imparare tutto sullo sguardo vai alla playlist dedicata agli occhi. Poi guarda le mani in relazione al viso. Se chi ascolta regge il viso con la mano si sta annoiando e la noia ha vari gradi di intensità segnalati dalla posizione della mano. Se è solo il pollice sotto il mento è un inizio di noia e si hanno ancora buone probabilità di recuperare la situazione. Con l'intero pugno c'è una discreta perdita di interesse. Ma se il viso è retto dall'intera mano c'è proprio la massima perdita di interesse. Che non è più assolutamente recuperabile quando il viso è retto da entrambe le mani. Presta attenzione perché un gesto apparentemente simile ha in realtà un significato completamente diverso. Un significato di valutazione. Se la mano è chiusa e leggermente appoggiata al mento o alla guancia. Ma in modo lieve non per reggere la testa e spesso con l'indice puntato. Il soggetto sta valutando ciò che ascolta. Poi osserva anche i gioielli. Se chi ascolta li tocca lievemente quasi accarezzandoli con un gesso lento e continuativo. Sta esprimendo un senso di piacere e di attenzione verso ciò che vede o ciò che sente. Ora senza farti notare guarda in basso. Devi ricordarti di prestare sempre attenzione ai piedi delle persone. Perché sono estremamente indicativi del loro interesse. E ben pochi li sanno controllare. Mentre riescono ad avere più consapevolezza della parte superiore del corpo. Inconsciamente vengono direzionati verso la persona che cattura il proprio interesse. E questo avviene sia in piedi che da seduti. Ma se chi parla con te ha il corpo rivolto nella tua direzione e i piedi altrove significa che vorrebbe scappare. Per approfondire guarda questo video. Le persone spesso sono a disagio ma troppo educate per esprimerlo. Al contrario del corpo che non si riesce a reprimere. Quindi se noti ad esempio braccia incrociate o lo sguardo verso il basso. Piuttosto che il fatto di oscillare lievemente spostando il peso del corpo da un piede all'altro. O una certa rigidità nel corpo. Sappi che sono tutti segnali che quella persona non sta apprezzando granché la situazione. Sta a te cogliere questi indizi e sfruttarli a tuo favore apportando delle modifiche in ciò che sta avvenendo in questa situazione. Devi essere sempre percettivo e fluido nella tua strategia. È l'unico modo se vuoi diventare carismatico. Bisogna essere sempre pronti a fare dei rapidi cambiamenti. Non puoi attenerti ad un copione se vuoi colpire nel segno. Concentrati anche su queste tre aree. Pupille, gola e petto. Potrai ricavare degli indizi molto preziosi. C'è tutto un video dedicato alle pupille. Comunque in linea di massima se sono dilatate la persona è interessata o attratta. Se sono strette è infastidita o impredà la collera. È importantissimo osservarle perché non sono in alcun modo controllabili volontariamente. La gola ti rivelerà la deglutizione. Se è frequente o accentuata ti conviene apportare subito delle modifiche perché la persona non è assolutamente a proprio agio. Guarda bene anche il petto per osservare la respirazione. Quando è concentrata in modo evidente in quell'area, con un ritmico innalzamento e abbassamento, significa che quella persona sta cercando di trattenere una reazione molto negativa. Cerca di sciogliere quella negatività al più presto. Se sei rapido, sei ancora in tempo a recuperare la situazione. E va bene, per ora non sarai diventato Sherlock Holmes e nemmeno nessuno degli altri personaggi. Ma ricordati che io non te l'avevo promesso. Ma almeno avrai una solida base, seppur minimale, sulla quale lavorare per costruire la tua strategia vincente. Per tutto il resto, guarda con attenzione gli altri video del mio canale. E iscriviti e clicca sulla campanellina per non perdere i prossimi. Adamas, diventa come un diamante. Brillante, prezioso ed invincibile.